Ciao a tutti, mi chiamo Mattia Inzolia e sono autore degli Affamati. Gli Affamati è un romanzo che parla di due giovani ragazzi, si chiamano Paolo e Antonio, sono fratelli. Paolo è il maggiore dei due e ha 22 anni, mentre Antonio è il più piccolo e ne ha 19. Antonio e Paolo vivono in un paese molto piccolo, un paese dove vivono poche migliaia di persone. La madre è scappata quando loro erano piccoli perché il padre beveva, era un alcolizzato, e la picchiava. Un padre che poi è morto, appena pochi anni dopo che appunto la madre è scappata. I due fratelli Antonio e Paolo quindi vivono da soli, vivono da soli un'esistenza che è fatta di cose molto piccole, sono entrambi poveri perché lavora solo Paolo, fa il muratore, mentre Antonio va ancora a scuola, va al liceo. E cercano un po' di andare avanti nella quotidianità, cercano un po' di sopravvivere, in un certo senso, nella casa in cui hanno vissuto con i genitori e che adesso è fatiscente, è vecchia, è sporca. Sono molto legati tra di loro, sono legati da una sorta di amore per necessità, cioè si aggrappano l'uno all'altro perché sanno di non avere nient'altro a conti fatti. E in questo aggrapparsi continuo hanno effettivamente costruito una quotidianità, hanno costruito delle giornate che funzionano. Ora, il romanzo racconta un'estate in particolare, in cui Antonio e Paolo per la prima volta si affacciano sul mondo, nonostante infatti non escano dal paese in cui vivono, che si chiama Campo Rotondo, e che è a sud, nel sud dell'Italia, anche se non è in un punto specifico, perché in realtà Campo Rotondo non esiste, appunto per la prima volta si affacciano sul mondo nel senso che si aprono alle persone, si aprono a dei nuovi rapporti, dei rapporti di amicizia, dei rapporti di amore. Il fatto è che loro amicizia e amore non le hanno mai conosciute, veramente, sono dei sentimenti che non hanno mai provato, che non gli sono stati insegnati con degli esempi, da parte dei genitori, da parte dei familiari, da parte dei loro coetanei, e quindi un po' come degli animali, un po' istintivamente, devono cercare di capire come funzionano. E lo fanno con dei rapporti con delle ragazze e dei ragazzi che devono, in un certo senso, capire, devono imparare a comprendere, devono imparare a gestire. Da questa confusione deriva la rabbia, da questa confusione deriva la fame, tant'è che il romanzo si chiama Gli Affamati proprio perché loro sentono questo desiderio a cui non riescono a dare un nome e che cercano sempre, in qualche modo, di appagare, senza mai effettivamente riuscirci. Da questo, da questo desiderio sempre inappagato, da questa fame di tutto, che in realtà è fame di niente, deriva la rabbia, deriva la frustrazione, deriva la violenza. Il romanzo, infatti, è piuttosto duro, è piuttosto violento, ci sono delle scene piuttosto forti, ma si tratta sempre di una violenza che ha delle spiegazioni, mai delle giustificazioni, ma solo dei motivi per cui determinate azioni vengono compiute. È un romanzo molto duro, come dicevo, ma che si apre appunto all'amore, che si apre all'amore tra fratelli, cioè tra Antonio e Paolo, ma anche all'amore per, in un certo senso, il futuro. Perché pure se ognuno di noi ha dei traumi nella vita che poi diventano paure per il futuro, pure se ognuno di noi ha delle felicità nel passato, nella nostra storia, che poi diventano speranze, diventano desideri. L'amore, in un certo senso, è quell'unico sentimento che in qualche modo riesce sempre un po' a entrare nella vita di ognuno. Io spero che questo romanzo vi piacerà, spero di incontrarvi al più presto, voi lettori tedeschi, e per adesso vi ringrazio. Auf Wiedersehen und Danke! Grazie a tutti!